Ripartiamo, questo è il nome della campagna abbonamenti del Novara FC che partirà dal 4 luglio. Ci è stata presentata poco fa una campagna abbonamenti che vedrà, possiamo tanto anticipare alcuni prezzi, 150 euro la curva, 90 euro invece per gli abbonamenti ridotti che valgono fino ai 18 anni, quindi 2007 e gli over 65. È un Novara che intanto da oggi parte il calciomercato, si sta costruendo una squadra che possa ambire ad essere competitiva sono due i giocatori che praticamente dovrebbero essere ufficializzati almeno al momento, il centrocampista Graivilov, Bulgaro e l'esterno Jelenic che ha già avuto tanta esperienza in Italia, soprattutto a Padova. Sul giornale che troverete in edicola poi dal prossimo venerdì troverete ulteriori informazioni, tutti i dettagli degli abbonamenti. Vi invito anche a seguirci sul nostro sito www.sdnews.it dove potete scaricare tutti i nostri giornali in formato digitale. Un saluto da Marco Cito.